E' fresca come l'aria, e non stai qua pure, e tu hai problemi, e tu hai pensieri, e tu hai da più, e tu hai particolare, solo per farti guardare. Allora, ciao, sono Massimo, sono uno dei ragazzi che parteciperà a questa bella iniziativa che è una campagna di prevenzione contro tutte le droghe e adesso oggi sono qui in teatro, insieme a Francesco Polloni, a Patrizia, che è una mia carissima amica, per fare delle prove per questi spettacoli, sono molto emozionato, sono molto contento, ho accettato di partecipare a questa iniziativa perché è una cosa che secondo me è molto importante, sia per me che solo sul palco, che per quelli che mi guardano, per me è importante mettermi comunque tutti i giorni in gioco, raccontandomi, per chi mi guarderà penso che sia molto importante vedere proprio con i propri occhi e sentire con le proprie orecchie una persona che è caduta nella droga, quindi la droga c'è, c'è e non bisogna sottovalutarla assolutamente perché lì dietro l'angolo è in qualunque momento ti può fregare.